puntuali alle sette amici di oggi giovedì 25 agosto 2022 per la rassegna stampa di Fano TV, ben trovati dunque per questo appuntamento televisivo che ci dà la possibilità di iniziare la giornata conoscendo quello che è accaduto nella giornata di ieri e lo vediamo sul resto del calino e sul Corriere Adriatico per quanto riguarda le notizie a carattere locale. Intanto però cominciamo con l'almanacco e vedere il santo del giorno, è un santo oggi particolare sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista storico perché si festeggia San Luigi IX ovvero San Ludovico, re di Francia, visse in un periodo particolare del Medioevo caratterizzato da lotte, ci furono anche le crociate, Luigi stesso ne organizzò una in Egitto dove conquistò alcune terre, ebbe alcune vittorie ma poi fu sconfitto e fatto prigioniero. Luigi IX fu un re buono, pio e vultuoso, fu liberato poi probabilmente dietro il pagamento di un considerevole riscatto tornò nel suo paese dove si distinse non solo per il suo governo buono come abbiamo detto ma anche per le sue attività di carattere culturale. Pensate, realizzò la Saint-Chapelle, uno dei monumenti più belli del gotico francese, ancora oggi visitabile che desta la meraviglia di tutti i nostri contemporanei. Fondò anche la Sorbona, un'attività di carattere culturale di tipo universitario che dura ancora oggi. San Luigi IX, re dei francesi. E vediamo le previsioni del tempo. E sono sempre quelle, non cambiano ancora, il tempo si mantiene stabile, stabile e asciutto in tutta la regione Marche, qualche nuvoletta di passaggio, un cielo poco nuvoloso con ampie schiarite dal pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi, le vinime i venti, insomma c'è una escursione termica tra il giorno e la notte considerevole. I venti ispireranno da una direzione di nord-nord-ovest sulle coste e da nord per quanto riguarda l'interno. Le temperature dovrebbero essere in calo, dicono le previsioni, ma in realtà calano sempre meno, insomma non calano affatto, però insomma tra ieri e oggi la situazione è rimasta quella. Invece è cambiata per quanto riguarda invece la situazione delle notizie del giorno. Cominciamo oggi con cosa? Bene, apriamo il giornale sul Corriere Adriatico, pagina di Fano e non si può non parlare della fiera di San Bartolomeo, uno degli appuntamenti più importanti del mese di agosto della città della Fortuna, un appuntamento che si tramanda dal buio dei secoli, infatti è nato in epoca malatestiana, probabilmente anche prima e si è mantenuto intatto fino ad oggi. in epoca malatestiana le fiere erano parecchie, quella che è sopravvissuta e si è mantenuta è quella di San Bartolomeo, famosa per la vendita di aglio e di cipolle, ma ora si vende di tutto. Alla fiera le offerte contro il caro vita, intitola il Corriere Adriatico, tra specialità, curiosità e innovazioni. Interesse del pubblico dal primo giorno per la crisi economica che premia le occasioni di risparmio. Ebbene, si può definire una fiera contro il caro vita, quella che si svolge a Fano, i prezzi sono accessibili, sappiamo come la situazione economica non è una delle più felici e andare a fare compre alla fiera è sempre un'occasione per risparmiare qualche centesimo, qualche euro, diciamo così, insomma non sono risparmi eccezionali perché poi anche i venditori hanno avuto l'aumento delle loro merci, la difficoltà di ritrovare le materie prime, l'aumento del costo delle fonti energetiche, insomma sappiamo quali sono le cause delle difficoltà che travagliano le famiglie ogni giorno nel quotidiano al giorno d'oggi. Vediamo qui delle fotografie del Corriere Adriatico che evidenziano alcune novità della fiera, sono delle curiosità, la fiera c'è di tutto dai casalinghi all'abbigliamento, alle mercerie, alla bigiotteria, dei giochi, insomma c'è veramente tutto, il genere alimentare, i dolci, c'è veramente di che sbizzarrirsi. Ebbene, per qualche curiosità vi segnalo quella che ha evidenziato Antonella Bassoli che vende un elemento della ricerca chimica, ovvero è una forma di lattice con la quale si chiudono ermeticamente barattoli, bottiglie, eccetera, viene che è chiamato il profilattico alimentare, niente di scabroso, è semplicemente un profilo con il quale si chiudono ermeticamente appunto i contenitori, si conservano meglio i cibi e anche se si ribalta il contenitore il liquido non esce. E poi abbiamo invece un'altra curiosità, quella della bancarella della creatività. La bancarella della creatività è una bancarella così speciale, una bancarella che consente di decorare i fogli di carta secondo la fantasia di qualsiasi persona che voglia insomma impreziosire i propri scritti, i propri elementi. Si possono impreziosire con delle fustarelle le partecipazioni di matrimonio, i biglietti di auguri, le lettere, tutto quello che può avere un gusto particolare e personalizzato della missiva che si vuole spedire. E poi che dire del profumo delle norcinerie che ci segnala Federico Cinti. Passare davanti al suo stand è veramente una sinfonia di profumi. Si vende un po' di tutto, dal salame di cervo al salame speziato al tartufo, alla carne di cinghiale, tutto frutto di una lavorazione artiginale che comprende anche i formaggi, soprattutto i pecorini variamente stagionati. E poi ancora la bancarella di Massimiliano Grossi di Teramo che ha dei prodotti di cosmesi naturali, dai saponi all'olio di cocco al biocosmesi fatta con l'artiglio del diavolo. E poi la crema a base di bava di lumaca. Insomma veramente c'è di che sbizzarrirsi andare alla fiera di San Bartolomeo che durerà anche oggi e anche domani. Sono i tre giorni classici della fiera. Ed ora cambiamo notizia e vediamo come Andrea Maduzzi ci parla di una aspettativa, di una proposta che la tifoseria fanese dell'Alma sta facendo all'amministrazione comunale. Intitolare la curva dello stadio a Bronco. Petizione della tifoseria Granata. Sono state già raccolte 144 firme per il giovane papà che non resse alla perdita della sua figlioletta. È un atto di sensibilità e di vicinanza ad una famiglia che ha tanto sofferto questa. Così vorrebbe interpretata l'intitolazione della curva dello stadio Mancini a Bronco, ovvero a Federico Santini. Un tifosissimo Granata che è venuto a mancare 12 anni fa a pochi mesi di distanza dalla sua figlioletta. La sua figlioletta è morta per una malattia incurabile e lui non ha retto a tanto dolore e anche lui ha deciso di farla finita. Lo ricordano con questa proposta i club delle tifoserie che finalmente si sono riappacificate, si sono riunite in un unico grido Forza Alma. Ebbene sono il club Forza Alma, i Panthers Fano e gli Ultars di Fano, i tre gruppi organizzati appunto del tifo Granata. E poi a fondo pagina abbiamo invece una replica del capogruppo della Lega Gianluca Ilari alle dichiarazioni del sindaco in merito ai progetti che si intendono a realizzare per questa fine della tornata amministrativa. Il sindaco ha magnificato l'opera organizzata dalla Giunta, invece Gianluca tende a demolirla. Ci sono problemi risolti, ha detto, come le proteste che ha sollevato la variante di Gimarra, ancora incerto il futuro dell'Aset, il waterfront è ancora tutto da delineare e poi tutti i progetti che si sono alternati nell'area ex Agip, ancora lasciata allo stato così selvaggio, diciamo così, ma non è il termine giusto. E poi ancora la vasca di raccolta delle acque del Lido che dovrebbe essere attivata, ma ancora non lo è. E poi gli errori compiuti nella posa in opera delle scogliere provocati da una email sbagliata nell'inviare la domanda di partecipazione al bando. Invece l'assessore al welfare Dimitri Tinti ci parla del reddito di cittadinanza. In questo caso sono partiti 13 progetti utili alla collettività. Il presidente dell'ATS numero 6 si fa inclusione sociale, intervengano enti e terzo settore ha dichiarato. Nell'arco di quattro mesi sono stati attivati 13 progetti utili alla collettività e non riguardano trattandosi di ambito solo Fano, ma anche alcuni comuni che fanno parte di questo insieme, di questo gruppo. Sono Mondolfo, Pergola, Mondavio, Montepozio, San Lorenzo in campo. È previsto che a breve ne saranno attivati anche negli altri tre comuni dell'ambito territoriale, ovvero a Fraterosa, San Costanzo e Terre Roveresche, quando una volta saranno completati gli addempimenti amministrativi che occorre fare prima appunto di avere queste possibilità. A Fossombrone invece un bando va a deserto, era il bando per la riqualificazione dei giardini di Viale Cairoli. Il prezzo a base d'asta era troppo basso, quindi non è stato preso in considerazione dalle ditte che avrebbero potuto partecipare nella realizzazione di questi lavori. Il Comune cosa fa dopo che il bando è andato deserto? Ritenta con prezzi aggiornati, prezzi aumentati. Il caro Vita insomma incide un po' dappertutto, soprattutto anche nei bandi di carattere pubblico. Vediamo a Serra Santabondio l'avventura dello spirito sulle tracce di San Benedetto. Alvio oggi il cammino camaldolese dall'abbazia di Monte Corona a Fonte Avellana. Un cammino a piedi, un pellegrinaggio come si faceva nel Medioevo ma che conserva tutta la sua spiritualità, tutta la sua efficacia di introspezione anche al giorno d'oggi. E poi si vedono dei panorami bellissimi da Monte Corona dove è nato l'eremo di Camaldoli si può dire così, che poi è anche a Montegiove e a Fonte Avellana, un itinerario tra Umbria e Marche. Veniamo anche a Senigallia dove ci sono due pagine che si riferiscono al fatto di cronaca che ha portato alla morte una signora. Si tratta di Alessandra Matteuzzi. è stata uccisa da Giovanni Padovani, un senigallese di 26 anni che di professione fa il modello. Lei era 20 anni, lei aveva 20 anni di più del suo compagno. Sembra che il movente sia quello della gelosia. Non resisteva a Matteuzzi alla fine della relazione con la sua compagna e soprattutto non voleva che ci fosse un altro uomo che potesse subentrare alla sua relazione e per questo l'ha uccisa a botte, a martellate. Il post-shock prima dell'agguato, scusate l'ora di andarmene, il giocatore che si sentiva un campione, ho dimostrato quanto valgo, ha detto con una espressione deprecabile. L'uomo è stato arrestato dalla polizia e condotto in carcere con l'accusa di omicidio. Non ha opposto resistenza, dato che aveva con sé un martello. Si tratta anche di premeditazione. Veniamo ora alle pagine regionali dove fa testo il post che ha messo Chiara Ferragni sul web. Un post contro Fratelli d'Italia. Nelle marche aborto negato, ha dichiarato la replica di Fratelli d'Italia. L'accusa è infondata. Botta e risposta tra l'influencer da 27 milioni di follower e la Leonardi. La blogger? Questa è una politica che rischia di diventare nazionale. Che cosa ha fatto Chiara Ferragni? Ebbene, Chiara Ferragni non ha fatto altro che far rimbalzare un post su Instagram dove diceva che nelle marche, insomma, c'è il rischio che l'aborto venga, secondo la politica di Fratelli d'Italia, venga così proibito, venga vietato. Ovviamente questo non è vero, dicono Fratelli d'Italia, perché durante la gestione della Regione da parte del Presidente Acquaroli si è rispettata la legge. Quindi un batti e ribatti. E qua vediamo Carlo Ciccioli in questa seconda pagina che dice la sua contro quello che dice invece la deputata del PD, Alessia Morani. Infrastrutture, lavoro, ricostruzione per far uscire le marche dall'angolo. L'assessore regionale Guido Castelli capolista al Senato con Fratelli d'Italia. Anche qui abbiamo una presa di posizione un po' però su problemi in generale per quanto riguarda la nostra Regione. Giriamo la pagina su Pesaro e vediamo un bellissimo articolo a due pagine. Vediamo qui, dice a porta aperte, in realtà si parla di mosaici del Duomo. I mosaici del Duomo sono un reperto archeologico di straordinaria importanza al Duomo di Pesaro. Sono mosaici posti su due livelli. uno del IV, del VI al XIII secolo, quello a livello superiore, e uno risalente al IV secolo a livello inferiore. Sono estesi questi mosaici perché uno si estende sui 400 metri quadri, l'altro addirittura sui 600 metri quadri. Sono mosaici con delle raffigurazioni allegoriche di grande importanza che esprimono il senso del primitivo cristianesimo. E qui vediamo il Vescovo di Pesaro, l'Arcivescovo Salvucci, che evidenzia come sono stati ripuliti i mosaici e ora si è a lavoro per ampliare i finestroni di vetro che sono stesi sul pavimento superiore della Basilica per far vedere appunto quello che c'è a livello sottostante. Una visita a questi reperti è estremamente interessante sia per i locali che per i turisti. La pista di Via Fratti non è ancora partita e già si fanno i conti con rincari dei costi. Il Comune deve adeguarsi al nuovo listino. Sulla carta il progetto è finanziato per mezzo milione, ma mezzo milione non basta più. È uno dei problemi con cui si dibattono gli enti locali per quanto riguarda i lavori pubblici. Questo è quello di Via Fratti, ma ce ne sono tanti e tanti altri. E qui invece abbiamo una defezione dalla Lega. Si tratta di Roberto Biagiotti, che non era presente ieri quando Salvini è venuto a Pesaro e ha presentato appunto il suo entourage della Lega Locale. Roberto Biagiotti ha preferito lasciare il suo partito perché per una questione personale ha detto non sono tenuto nella giusta considerazione e ora da consigliere comunale si prepara per entrare nella maggioranza con Ricci. decideranno loro se chiedermi di farne parte. Se non lo fanno, e beh, Biagiotti ha detto se non lo fanno voterò lo stesso in linea con la maggioranza per rispetto della coalizione di cui fa parte il mio gruppo nazionale. E qual è il suo gruppo nazionale nuovo? E' quello formato da Tabacci e Di Maio, il nuovo partito Di Maio che si è staccato da Fratelli, da Movimento a Cinque Stelle. E poi i giornali parlano diffusamente di Pavarotti questa mattina perché una nuova stella brilla nella Walk of Fame, ovvero nella passeggiata degli uomini famosi a Los Angeles. Cerimonia Hollywood per Big Luciano e Ricci. Il sindaco di Pesaro dice siamo fortunati per essere stati la sua seconda casa e nell'ambito delle celebrazioni di Fano come capitale nazionale della cultura non potrà mancare un ricordo sentito, commosso, ma anche culturalmente impegnato di Luciano Pavarotti. La Baia è il suo luogo felice dove è stato tanto in vacanza e dove ha visto il suo meraviglioso panorama verso l'Adriatico, ma anche verso la città di Pesaro. E veniamo ora al resto del Carlino che apre con una critica alla fiera di San Bartolomeo per scarse presente. Fiera sotto toni, troppi stali restano vuoti. In realtà ieri mattina la fiera ha tardato un po' a riempirsi. Perché? Perché i viali sono rimasti liberi soltanto dalle venti del giorno precedente e non dal pomeriggio come accadeva nei giorni scorsi. Quindi molti ambulanti, molti, alcuni ambulanti, invece di lavorare tutta la notte per allestire le proprie bancarelle, hanno preferito arrivare al mattino seguente e quindi hanno allestito le bancarelle nel corso della mattinata. Ecco perché alcuni stali sono rimasti vuoti o poi nel pomeriggio tutto si è riempito. San Bartolomeo delude, afferma il resto del Carlino, le aspettative dei visitatori fanesi. Dei 200 stendisti annunciati ancora molti mancano all'appello. E soprattutto sono quelli che hanno un contratto decennale quest'anno, ma i loro vuoti sono stati ricoperti poi dalla lista d'attesa per la quale nella mattinata di ieri è stato fatto subito un nuovo bando. Addio al polistirolo inquinante. Non si useranno più cassette di polistirolo al mercato ittico all'ingrosso del comune di Fano, ma grazie ad un finanziamento che l'amministrazione comunale ha ricevuto, questo materiale sarà sostituito da un altro materiale ecologico compatibile. L'amministrazione si è giudicata un finanziamento a fondo perduto ed è stato presentato un progetto che promuove la prevenzione contro la dispersione in mare. I fondi ottenuti permetteranno l'acquisto di un macchinario per la sanificazione, quindi una procedura ancora più efficiente dal punto di vista sanitario. Attenzione, questo è un articolo che scrive Marco Del Rico sul resto del Calino per quanto riguarda l'ordine pubblico. Colpi in aumento, ma più danni che bottino. Nei centri dell'entroterra sono in incremento i furti del 30%. Il consiglio di chi lavora nella prevenzione è dotarsi di sistemi d'allarme e chi lavora nella prevenzione è Alessandro Giuliani, amministratore dell'Istituto di Sorveglianza Vigilare, che ha monitorato la situazione nelle ultime settimane. Registriamo un aumento del 20-30%, spiega Giuliani, ma non siamo tornati ancora ai livelli di prima della pandemia. Si tratta per lo più di tentativi di intrusione negli appartamenti, ai danni di bar, ristoranti, appartamenti, come dicevo, in zona mare. Ma il più delle volte riusciamo a intervenire in tempo. Sono ladri di galline che si accontentano di qualche spicciolo, anche se purtroppo a volte i danni che compiano per penetrare nelle abitazioni, quindi scassinare porte, finestre, rovinare mobili, eccetera, è superiore al bottino che riescono ad arraffare. E anche il resto del Carlino si interessa del reddito di cittadinanza. Per quanto è enunciato dall'assessore al welfare Dimitri Tinti, sono 234 i beneficiari nell'ambito sociale, ha dichiarato. Solo nel territorio di Fano questi ultimi fanno parte, hanno usufruito dei progetti utili alla collettività, occasione di inclusione, secondo l'assessore. E poi vediamo ad Urbino che Guidi, il vice sindaco, è stato messo alla porta. Ma sono contento, ha reagito. Il vice sindaco racconta la fine del rapporto col sindaco Gambini. Non me l'aspettavo, prendo atto che c'è una giunta di centrodestra. Forse ancora non l'aveva capito. Ma immaginato questo, Guidi è stato messo fuori dalla giunta, dal sindaco Maurizio Gambini, di cui è il vice, per un motivo semplice, aver aderito al gruppo Azione di Carlo Calenda in vista delle elezioni del 25 settembre. Insomma, Gambini è ovviamente di una coalizione diversa da quella a cui appartiene a livello nazionale Calenda e quindi Guidi è stato messo alla porta. È una decisione di carattere strettamente politico. Vediamo ora le pagine pesaresi, dove ancora si parla della Ferragni, Marche quasi impossibile abortire, Chiara Ferragni scatena la bagarre. Le parole della Ferragni hanno fatto seguito a un'inchiesta del Guardian nelle Marche, dal titolo diritto all'aborto a rischio nella regione guidata dal partito del possibile prossimo ministro d'Italia, così afferma il The Guardian. Di tutt'altro tenore, ovviamente, la reazione di Fratelli d'Italia, l'accusa che nelle Marche si è negato il diritto di abortire, è falsa ed infondata, hanno dichiarato. E poi la stella di Pavarotti che brilla a Hollywood. Un grande onore anche per noi, ha detto il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, così anche Vimini e il direttore del ROF della Chiara a Los Angeles per la cerimonia in onore del tenore. Tanti pesaresi hanno seguito l'evento davanti al maxischermo che sono allestito in Piazzale della Libertà. Vediamo qui una foto del maxischermo con i commentatori Ricci, Vimini, della Chiara, che sono qua sul maxischermo a Hollywood. Insomma, un'occasione di promozione anche per Pesaro. E poi il delitto che ha visto Alessandra Matteuzzi essere vittima di un femminicidio ad opera di Giovanni Padovani, il senigallese. Padovani omicida, era un ragazzo d'oro. Parla così l'ex allenatore dell'Alma Manuelli, sconcertato dal gesto del suo ex allievo. Ed ora vediamo quello che accade nel trasporto pubblico in autunno. Autobus da settembre stangata sui biglietti. Gli aumenti riguarderanno soprattutto le brevi e medie percorrenze. Biancani, l'assessore regionale del Partito Democratico, dice far pagare di più gli utenti è la strategia sbagliata. Ma lui è all'opposizione e purtroppo non decide. Comunque la sua osservazione è proprio opportuna. Perché insomma un aumento nel genere alimentare, un aumento nei servizi, un aumento nelle tariffe non si finisce più. E noi invece finiamo la nostra rassegna stampa chiudendo il giornale e dandovi appuntamento a domani alle ore 7 per le altre notizie che pubblicheranno i quotidiani. Mentre per le notizie del giorno vi do appuntamento alle 20.30 di questa sera in occhio alla notizia su Fano TV per le notizie del giorno. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie. 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 Grazie.